Ballo E' un po' Non ce l'abbiamo fatta ragazzi Non ce l'abbiamo fatta E' un po' No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ora facciamo Steinmann, andiamo verso Festkugel e prendiamo la Roche Garbant, questa qua lunga. Ma stai riprendendo vero? Si. Perché sei così vero? Eh lo so. Poi Plattach. Alton. Plattach. La 6 è così, la 6 è quella che scende da qua. Che? Ok. Si ok, Festkugel. Scende così. Ma è una pista blu. Facciamo la 7 scuola. Facciamo la 6 dopo. Visto che siamo qua tutto il giorno. Oh. O no. 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 Sprego. Poi la 7. Questa l'8 qua. No, la 8 possiamo fare, si è aperta. La 8, la nera. Questa. Si è aperta. Questa. E poi giù di qua. Quella 9 lo scrivi. Sì. Ok. 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 Ghiacciai in fondo ovviamente. Wow. Ok. 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 Ma non è tanto presto, però non c'è nessuno. c'è nessuno. Ok. 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 bollo dai che siamo quasi arrivati scusiamo al posto di fare quell'impianto indietro no dopo vedrai perché lo scopoiai si comunque poteva farlo più corto beh quello sicuro è eccessivo appunto però Non c'è tanto. Da qua facciamo una foto pazzesca. Pazzesco. E' quello che lì voglia. C'è praticamente una funicolare riservata che arriva sulle piste. Eh, lo so. Che può comunque stare vicino alle piste. Nonostante, no, c'è la funicolare. Che è uno dei più economici di Occhio. E' quello con lo skrift, no? Eh, non lo so. Penso che si, sai. E' chiuso lo skrift. E' quello che ti ho detto che è chiuso, vecchio. Sì, ma funicolare. Eh, ok. Ah, me l'hanno trovato, vecchio. Due settimane fa. Ci faceva quattro giorni, quattrocento euro con cena. Un quattro. Quell'albergo. Ma sei serio? Una settimana fa. Era a bassa stagione. Oh, no. Eh. Cazzo. Cioè, mille volte a metere. Cioè, il metto di piste. Il metto di piste. Lo skrift era anche aperto, vecchio. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Grazie.